e così peter non volete nemmeno riflettere su questo affare chiese john brown mentre si abbottonava il soprabito sulla ben protetta rotondità della persona e si infilava i guanti rifiutate di cedermi questa vecchia bicocca col terreno fabbricabile adiacente al prezzo che ho detto né per quel prezzo e nemmeno per il triplo ripete il magro brizzolato e pezzente peter goldwhite il fatto è signor brown che dovete trovarvi un altro terreno per il vostro blocco di mattoni e l'assegnarvi a lasciare ciò che è mio all'attuale proprietario estate prossima intendo costruire una splendida dimora nuova sulle cantine di questa vecchia casa peter esclamò il signor brown mentre apriva la porta della cucina accontentatevi di costruire castelli in aria dove le aree fabbricabili costano meno che sulla terra per non parlare del prezzo dei mattoni e della calce quelle sono fondamenta anche troppo solide per i vostri edifici mentre queste proprio sotto i nostri piedi vanno bene per il mio così potremmo essere contenti entrambi che ne dite precisamente quel che vi ho detto signor brown disse peter goldwhite e quanto ai castelli in aria il mio non sarà forse splendido come codesta specie di architettura ma in compenso signor brown sarà altrettanto concreto quanto il rispettabilissimo cubo di mattoni con negozi di stoffe e sartoria al pian terreno uffici di banche al primo piano e uffici legali al secondo che voi siete così ansioso di sostituire al mio e la spesa peter disse il signor brown con una punta di cattivo umore mentre se ne andava pagherete immagino seduta stante firmando un assegno sulla banca dei sogni circa venti o trent'anni prima il signor brown e peter goldwhite erano stati conosciuti dagli ambienti commerciali come comproprietari e soci della dita goldwhite brown ma la società si era presto disciolta per la naturale incompatibilità delle parti componenti da quel giorno john brown che aveva esattamente le stesse qualità di migliaia di altri john brown era riuscito a prosperare in maniera sorprendente e a diventare uno dei più ricchi john brown della terra peter goldwhite invece dopo innumeri progetti che avrebbero dovuto far entrare nelle sue casse forti tutto il denaro e tutta la carta moneta del paese era il gentiluomo più bisognoso tra tutti i gentiluomini che abbiano mai portato una toppa al gomito la differenza fra lui e il suo antico socio si può riassumere in breve brown non contava mai sulla fortuna e ne aveva sempre mentre peter ne faceva la condizione essenziale dei suoi progetti e la fortuna gli sfuggiva immancabilmente finché ne aveva avuto i mezzi le sue speculazioni erano state grandiose ma negli ultimi anni si erano limitate quasi esclusivamente ad affarucoli come quello di tentare la sorte in qualche lotteria una volta si era unito a una spedizione di cercatori d'oro diretta al sud ed era ingegnosamente riuscito a vuotarsi le tasche ancora più completamente che mai mentre gli altri di certo se le riempivano d'oro grezzo a manciate più di recente aveva investito un'eredità di uno o migliaia di dollari nell'acquisto di certificati provvisori messicani divenendo in tal modo proprietario di una provincia che però per quel che peter riuscì a scoprire era situata dove egli avrebbe potuto avere per lo stesso prezzo un impero nelle nuvole da una spedizione alla ricerca di questo suo prezioso possedimento terriero peter tornò così smunto e sbrindellato che arrivando nella nuova inghilterra gli spaventa passeri nei campi di grano gli fecero cenno mentre passava gli sono semplicemente agitati al vento disse peter goldwhite no peter ti hanno fatto cenno perché gli spaventa passeri hanno riconosciuto in te il loro fratello all'epoca del nostro racconto tutte le sue entrate effettive non sarebbero state sufficienti per pagare le tasse della vecchia abitazione in cui lo troviamo era una di quelle cadenti case di legno dai molti pinnacoli ricoperte di muschio quali se ne trovano sparse lungo le strade delle nostre cittadine più antiche con un secondo piano sporgente a strapiombo sulle fondamenta come sopracciglia grottate dinnanzi alle novità che le circondano e sagace peter per grande che fosse la sua penuria aveva le sue buone ragioni per non volersi separare mai né con asta pubblica né con vendita privata da quel vecchio edificio di famiglia sebbene trovandosi in posizione centrale nella strada principale della città avrebbe potuto fruttargli una bella somma sembrava in vero che una fatalità lo legasse al luogo dove era nato perché per quanto spesso si fosse trovato come si trovava anche allora sull'orlo della rovina non lo aveva mai superato di quel solo passo oltre il quale sarebbe stato costretto a cedere la casa ai suoi creditori così continuava ad abitarvi con la cattiva sorte aspettando che arrivasse la buona e lì nella cucina l'unica stanza della casa dove un po' di fuoco attenuasse il freddo di una serata di novembre il povero peter goldwhite aveva appena ricevuto la visica di un suo ricco socio di un tempo al termine del loro colloquio peter gettò un'occhiata un po' mortificata ai suoi abiti parte dei quali mostravano di risalire ai tempi della società goldwhite e brown portava un soprabito di tessuto misto miseramente sbiadito e rattoppato ai gomiti con pezze di stoffa più nuova sotto a questo indossava una logola giacca nera i cui bottoni di seta erano stati in parte sostituito con altri di tipo diverso e infine se non gli mancava un paio di pantaloni grisi essi erano però assai frusti e in qualche punto avevano preso un colore marrone per la frequenza con la quale peter si arrostiva gli stinchi davanti a un magro focherello l'aspetto di peter era in armonia con l'eleganza del vestire capelli grigi occhi infossati guance pallide e corpo smunto immagine perfetta di un uomo che si era nutrito di vacui progetti e di vane speranze fino al punto di non poter più vivere di così malsane vuotaggini e mandar giù un cibo più sostanzioso ma nonostante tutto peter goldwhite pur essendo forse un semplicione dal cervello balzano avrebbe potuto figurare splendidamente nel mondo se la sua immaginazione l'avesse consacrata all'etereo commercio con la poesia invece di farne un demone combinatore di guai nelle speculazioni finanziarie non era un cattivo soggetto dopo tutto anzi innocuo come un bambino è onesto, integro gentiluomo quanto per natura era stato destinato ad essere eppure entro i limiti consentiti ad un uomo da una vita irregolare e da tristi, sfortunate circostanze mentre peter rimaneva in piedi sui mattoni sconnessi del suo focolare guardandosi intorno nella vecchia a squalli da cucina i suoi occhi cominciarono ad accendersi di un entusiasmo che non lo abbandonava mai a lungo sollevò la mano strinse il pugno e lo batte violentamente contro il pannello affumicato sopra il focolare il momento è venuto, disse con un simile tesoro a mia disposizione sarebbe pazzia continuare ad essere un povero domattina comincerò dalla soffitta e non mi fermerò finché non avrò demolito tutta la casa rincantucciata nell'angolo del caminetto come una strega in una caverna buia sedeva una vecchietta intenta a rammendare una delle due paia di calze di cui Peter Goldwhite impediva che i piedi gli si congelassero poiché le calze erano sfondate in modo irrimediabile e l'aveva tagliato alcuni pezzi di flanella da una sottana smessa per fare delle solette nuove tabita porter era una vecchia di più di 60 anni di cui 55 li aveva trascorsi in quello stesso angolo del caminetto da quando cioè il nonno di Peter l'aveva raccolta in un ospizio di poveri non aveva altri amici all'infuori di Peter né Peter altro amico oltre a tabita fino al giorno in cui Peter avesse avuto un rifugio dove riparare la sua persona anche tabita avrebbe saputo dove riparare la propria e il giorno in cui egli non avesse più avuto casa tabita avrebbe preso il suo padrone per mano e lo avrebbe condotto alla casa dove lei era nata ospizio dei poveri gli era tanto affezionata da dargli il suo ultimo boccone se fosse stato necessario e coprirlo coi propri indumenti ma tabita era una strana vecchietta e sebbene immune dalla leggerezza di Peter si era tanto abituata ai suoi ghiribizi e alle sue follie da considerarli ormai una cosa naturale sentendo che egli minacciava di demolire la casa sollevò tranquillamente gli occhi dal suo lavoro sarà meglio lasciare la cucina per ultima signor Peter osservò più presto avremo demolito tutto e meglio sarà rispose Peter Goldwhite sono arci stufo di vivere in questa vecchia casa triste buia piena di correnti d'aria di fumo di scricchioli e di gemiti mi sentirò ringiovanito quando abiteremo nella nostra splendida dimora di mattoni come faremo a Dio piacendo l'autunno prossimo tu mia vecchia Tabby avrai una stanza a mezzogiorno rifinita e ammobiliata secondo i tuoi gusti mi piacerebbe assai avere una stanza come questa cucina replicò Tabita non mi sembrerà mai d'essere a casa mia finché l'angolo del caminetto non sarà nero di fumo come questo e ci vorranno almeno cento anni quanto intendete spendere per la casa signor Peter? che importa? esclamò Peter con aria di grandezza forse che il mio prozio Peter Goldwhite che morì sessant'anni fa e di cui porto il nome non mi lasciò un tesoro sufficiente per costruire venti case come quella che ho in mente non posso dire di no signor Peter rispose Tabita infilando l'ago Tabita sapeva benissimo che Peter alludeva a un immenso tesoro di metalli preziosi che si diceva esistesse in qualche punto della cantina o nelle mura sotto i pavimenti in un armadio segreto o in qualche altro cantuccio nascosto della casa secondo la tradizione quella ricchezza era stata accumulata da un precedente Peter Goldwhite che aveva sembra un carattere assai simile a quello dell'omino protagonista del nostro racconto come lui anche l'altro faceva progetti stravaganti cercando di ammucchiare il denaro a parate e a carrettate invece di raggranellarlo a soldo a soldo come per Peter II anche i progetti dell'antenato erano quasi invariabilmente falliti e se non fosse stato per il magnifico successo dell'ultimo gli avrebbero lasciato a malapena una giacca e un paio di brache per ricoprire la sua lampanata e canuta persona sulla natura della fortunata speculazione correvano voci diverse alcuni insinuavano che l'antico Peter era riuscito a fabbricare l'oro per mezzo dell'alchimia secondo altri l'aveva tratto dalla tasca della gente con arti magiche un'altra versione ancor più bizzarra asseriva che il diavolo gli aveva dato libero accesso all'antico tesoro provinciale ma si affermava che qualche segreto ostacolo gli avesse impedito di godere delle sue ricchezze e che avesse avuto un motivo per nasconderle al suo erede o che in ogni modo fosse morto senza svelarne il nascondiglio il padre dell'attuale Peter aveva prestato abbastanza fede alla storia da far scavare la cantina Peter stesso considerava la leggenda come una indiscutibile verità e in mezzo ai suoi molti guai aveva almeno questa consolazione che cioè quando ogni altra risorsa gli fosse venuta meno avrebbe potuto ricostruire la sua fortuna demolendo la casa eppure a meno che non provasse per quel laureo racconto una segreta sfiducia è difficile spiegare perché gli avesse permesso al tetto paterno di rimanere in piedi così a lungo poiché non vi era stato mai un momento della sua vita in cui il tesoro dell'antenato non avrebbe trovato abbondanza di spazio nel suo forziere ma ormai era giunta la crisi se avesse rimandato un altro po' la ricerca la casa sarebbe sfuggita di mano all'erede diretto e con essa il gran mucchio d'oro che sarebbe rimasto sepolto nel suo nascondiglio finché il crollo delle vecchie mura non ne avrebbe rivelato la presenza agli estranei di una generazione futura sì esclamò nuovamente Peter Goldwhite domani mattina mi metterò all'opera più Peter considerava con attenzione la faccenda e più si sentiva sicuro del successo il suo morale aveva per natura una tale capacità di recupero che perfino allora nel desolato autunno della sua esistenza era spesso in grado di competere con la primaverile allegria degli altri rianimato dalle sue rose e prospettive cominciò a saltellare per la cucina come un folletto facendo gesti grotteschi con le membra ossute e i più buffi versazzi coi lineamenti scavati dalla fame anzi nell'esuberanza dei suoi sentimenti afferrò le due mani di Tabita e la trascinò danzando per la stanza finché la stranezza dei suoi movimenti di vecchia reumatica lo fece scoppiare in una gran risata che cheggiò nelle stanze come se Peter Goldwhite stesse ridendo in ognuna di esse finalmente egli fece un gran salto quasi scomparendo nel fumo che annebbiava il soffitto della cucina e tornando a terra sano e salvo cercò di riprendere la sua abituale gravità domani all'alba ripeté prendendo la lampada per andarsene a letto vedrò se questo tesoro è nascosto nei muri della soffitta e visto che siamo a corto di legna signor Peter aggiunse Tabita ancora affannata e ansante per la recente ginnastica a mano a mano che demolirete la casa accenderò il fuoco coi pezzi splendidi furono quella notte i sogni di Peter Goldwhite a un certo momento stava girando una grossa chiave in una porta di ferro assai simile a quella di un sepolcro ma che una volta aperta dava accesso a un sotterraneo in cui le monete d'oro si ammucchiavano come le spighe dorate di un granaio vi erano anche coppe cesellate zuppiere vassoi piatti da portata copripiatti d'oro d'argento dorato e poi collane e gioielli d'un valore incalcolabile sebbene appannati dall'umidità del sotterraneo poiché ciò che Peter Goldwhite aveva trovato lì dentro era il cumulo di tutte le ricchezze irrevocabilmente perdute per l'umanità sia quelle sepolte nella terra che quelle sprofondate nel mare si ritrovò presto innanzi alla vecchia casa più povera che mai e ne fu ricevuto sulla porta dalla figura magra e brizzolata di un uomo che gli avrebbe potuto scambiare per sé medesimo se non avesse avuto gli abiti di una foggia molto più antiquata della sua ma la casa senza perdere la sua primitiva apparenza era stata trasformata in un palazzo di metalli preziosi i pavimenti le pareti e i soffitti erano d'argento brunito le porte i telai delle finestre i cornicioni le balaustre e i gradini della scala erano d'oro puro e le seggiole d'argento avevano l'oro in fondo e d'oro con le gambe d'argento erano gli alti cassettoni d'argento erano anche le testate dei letti con le coperte in tessute d'oro e le lampade d'argento la casa era stata evidentemente trasformata da un colpo di bacchetta magica conservava tutti i segni che peter ricordava ma in oro o argento invece che in legno e le iniziali del suo nome che egli da bambino aveva intagliato nello stipite della porta rimanevano ugualmente profonde nel pilastro d'oro e peter goldwhite sarebbe stato un uomo felice se non fosse stato per una certa illusione ottica che ad ogni sguardo rivolto indietro faceva oscurare la scintillante magnificenza della casa per ricondurla alla sordida tristezza di prima peter quella mattina si alzò per tempo afferrò un'ascia un martello e una sega che aveva preparato accanto al letto e si affrettò a salire in soffitta era scarsamente illuminata a quell'ora da gelide schegge di sole che cominciavano a filtrare attraverso gli occhi di bue quasi opachi dell'abbaino un moralista potrebbe trovare in una soffitta abbondanza di temi per la sua stratta e utopistica saggezza ivi è il limbo delle mode passate antiche cianfusaglie vissute un giorno e tutto quel che fu caro a una sola generazione di uomini e che passò in soffitta quando quella generazione passò nella tomba non per essere conservato ma per essere tolto di mezzo peter vide pile di vecchi libri di conti rilegati in pergamena ingialliti e coperti di muffa in cui creditori da tempo morti e sepolti avevano scritto i nomi di debitori morti e sepolti anch'essi in un inchiostro ormai così sbiadito che sarebbe stato più facile leggere le loro pietre tombali coperte di muschi trovò vecchi abiti mangiati dalle tarme ormai ridotti a brandelli e cenci altrimenti peter li avrebbe indossati vi era una spada nuda e arrugginita non una spada militare ma uno spadino francese da gentiluomo che non si era mai separato dal suo fodero finché non lo aveva perduto erano bastoni da passeggio di venti tipi differenti ma nessuno col pomodoro e fibbie da scarpe di forme e materiali diverse ma nessuna d'argento né ornata di pietre preziose ecco una grande scatola piena di scarpe dai tacchi alti e dalle punte affilate e su uno scaffale una miriade di bottigliette mezzo piena di vecchi rimedi degli speciali nei quali dopo aver compiuto il loro effetto sugli antenati di peter erano state portate lì dalla camera mortuaria e vi era infine per non dare un più lungo inventario di oggetti che non saranno mai venduti all'incanto il frammento di una grande specchiera la cui superficie opaca e polverosa rifletteva tutte quelle vecchie cose facendole apparire ancora più vetuste del vero quando peter ignaro che lassù vi fosse uno specchio intravide il debole riflesso della propria persona immaginò quasi che l'antico peter goldwhite fosse tornato per aiutarlo o forse per ostacolarlo nella ricerca del tesoro nascosto e in quel momento una strana idea gli balenò nel cervello di essere egli quello stesso peter che aveva nascosto l'oro e di dover sapere perciò dove si trovasse ma se n'era inesplicabilmente dimenticato beh signor peter gridò tabita dalla scala della soffitta avete demolito la casa abbastanza per avere di che scaldare l'acqua del tè non ancora vecchia tabby rispose peter ma non ci vorrà molto vedrai non aveva ancora finito di parlare che sollevò l'ascia e cominciò a menar colpi così violenti da far volare le assi in pezzi fra un nuvolo di polvere e non batter d'occhio la vecchia ebbe il grembiale pieno di rottami la legna per l'inverno ci costerà poco osservò tabita così iniziato quel bel lavoro peter si misce a distruggere tutto quello che ci trovava davanti picchiando e spaccando travi e impalcatura strappando arpioni troncando e schiantando assi con un terribile frasbuono dal mattino alla sera ma ebbe cura di lasciare intatto il rivestimento esterno della casa in modo che i vicini non potessero sospettare di quel che stava facendo mai e nessuna delle sue stravaganze sebbene tutte lo avessero reso felice per il periodo della loro durata peter si era sentito più felice di ora e poi vi era forse qualcosa nel modo di pensare di peter goldwhite che gli procurava una interna ricompensa per tutti i guai esteriori che esso gli cagionava se egli viveva povero malvestito e perfino affamato esposto al rischio di essere completamente travolto dal precipizio della rovina che lo sovrastava era soltanto il suo corpo che soggiaceva a condizioni così misere mentre l'anima piena di aspirazioni godeva il sole di uno splendente avvenire era connaturale per lui rimanere sempre giovane e il suo modo di vivere tendeva al medesimo effetto i capelli grigi non contavano no e nemmeno le rughe né le infermità poteva sì apparire avanti con gli anni ed essere un po' sgradevolmente paragonato a una vecchia persona malandata dall'aspetto più squallido possibile ma il vero l'autentico Peter era un giovane di grandi speranze che entrava allora nella vita all'accendersi d'ogni nuovo fuoco la sua giovinezza consumata risorgeva dalle braci e dalle ceneri vecchie e in quel momento si levava esultante avendo vissuto così a lungo non troppo ma proprio fino all'età giusta da scapolo sensibile nutrito di caldi e tenori sogni egli decise appena l'oro nascosto fosse balenato alla luce di mettersi a corteggiare la più bella fanciulla della città e di farne la conquista quale cuore avrebbe potuto resistergli felice Peter Goldwhite ogni sera poiché da anni ormai aveva abbandonato i ritrovi di un tempo agenzia di assicurazioni sali di lettura e librerie e l'onore della sua compagnia era sollecitato raramente in circoli privati Peter e Tabitha si tenevano compagnia seduti davanti al caminetto della cucina dove si ammucchiavano i rottami della sua giornata di fatica in fondo in fondo al focolare vi era un bel ceppo di quercia rossa che dopo essere rimasto al riparo dalla pioggia o dall'umidità per più di un secolo si bilava ancora sotto l'azione del calore e stillava rivoletti d'acqua da un'estremità come se l'albero fosse stato abbattuto appena da una settimana o due vi erano anche travicelli solidi neri pesanti che avevano perduto la possibilità di imputridire e potevano essere distrutti solo dal fuoco in cui ardevano come sbarre di ferro rovente su questa solida base Tabita alzava una struttura più leggera composta di schegge di pannelli delle porte di cornici ornate e altri pezzi facili a prendere fuoco che si accendevano come paglia e gettavano una fiammata brillante su per l'ampia gola illuminandole fin quasi al comignolo le pareti fuligginose allora la penombra della vecchia cucina era bandita fin dai cantucci coperti di ragnatele e dall'oscuro graticcio di travi del soffitto cacciata chissà dove mentre Peter sorrideva felice e Tabita sembrava l'immagine di una giata vecchia tutto ciò non era che un simbolo della splendida fortuna che la distruzione della casa avrebbe riversato sui suoi inquilini mentre il pino secco fiammeggiava e crepitava come una scalica irregolare di moschetteria affatata Peter guardava e ascoltava in un piacevole stato di esaltazione ma quando alla breve fiammata e al crepitio seguivano il chiarore rosso cupo il calore penetrante il profondo suono sibilante che sarebbero durati tutta la serata egli diveniva loquace una sera pregò Tabita per la centesima volta di raccontargli qualche cosa di nuovo sul suo prozio sei seduta in quell'angolo del caminetto da 55 anni vecchia Tabby e di aver sentito molti racconti su di lui le disse Peter non mi hai forse detto che quando sei entrata in casa per la prima volta t'era una vecchia seduta al posto dove ora sia di tu era stata la governante del famoso Peter Goldwhite proprio così signor Peter rispose Tabita e aveva quasi cento anni raccontava di aver passato spesso le serate vicino al caminetto della cucina in conversazione col vecchio Peter Goldwhite proprio come facciamo adesso voi ed io signor Peter quel vecchio doveva somigliarmi molte cose osservò Peter in tono compiaciuto altrimenti non sarebbe mai diventato così ricco secondo me avrebbe potuto impiegare il suo denaro un po' meglio senza interessi nulla ad eccezione di una buona garanzia e bisogna buttar giù la casa per arrivarci perché mai l'avrà nascosto così bene Tabi perché non poteva spenderlo rispose Tabita ogni volta che si accingeva ad aprire il forziere il diavolo sbucava alle sue spalle e gli afferrava il braccio si dice che fosse stato lui a sborsare il denaro a Peter e volere che Peter gli consegnasse un atto di cessione di questa casa e del terreno ma Peter giurò che non lo avrebbe fatto mai proprio come ho giurato anch'io a John Brown il mio vecchio socio osservò Peter ma sono tutte sciocchezze Tabi io non credo questa storia ebbene può darsi che non sia proprio vera disse Tabita alcuni infatti raccontano che Peter cedette la casa al diavolo ed è per questo che ha sempre portato sfortuna ai suoi abitanti e appena Peter gli ebbe consegnato l'atto il forziere si aprì e Peter afferrò un pugno d'oro ahimè nella sua mano non vi era che un mucchietto di stracci vecchi sta zitta vecchia stupida esclamò Peter indignato erano le migliori guinee d'oro che mai abbiano portato l'effigia del re d'Inghilterra mi sembra quasi di poter ricordare tutta la scena e come io o il vecchio Peter o chi altri fosse tuffai o tuffò la mano nel forziere tirandola fuori tutta luccicante d'oro altro che vecchi stracci ma non era davvero la favola di una vecchia che poteva scoraggiare Peter Goldwhite dormì tutta la notte fra sogni piacevoli e si svegliò a levare del giorno con quell'allegro palpito del cuore che pochi hanno la fortuna di provare passata l'adolescenza giorno per giorno lavorò instancabilmente senza perdere un minuto fuorché all'ora dei pasti quando Tabitha lo chiamava a mangiare il porco coi cavoli o quant'altro aveva potuto racimolare o la provvidenza aveva mandato loro Peter era un uomo sinceramente devoto e non mancava mai di chiedere una benedizione e tanto più fervidamente perché più necessaria quando il cibo non era del migliore ne dimenticava di rendere grazie anche se il pranzo era stato magro almeno per il buon appetito che era sempre preferibile a uno stomaco malato davanti a un festino poi tornava di corsa alla sua fatica e un minuto dopo era scomparso in un nuvolo di polvere che si sollevava dai vecchi muri sebbene si udisse abbastanza per il fracasso che in quella nube produceva com'è invidiabile la consapevolezza ad essere occupato in qualche utile impresa nulla turbava Peter o meglio lo turbavano solo quei fantasmi della mente che sembrano vaghi ricordi ed hanno insieme parvenza di presentimenti si fermava spesso con l'ascia sollevata a mezz'aria e diceva a se stesso Peter Goldwhite non hai già dato questo colpo prima d'ora oppure Peter che bisogno c'è di demolire tutta la casa rifletti un momento e ti ricorderai dove è nascosto l'oro non di meno passarono i giorni passarono le settimane senza nessuna scoperta notevole qualche volta a dire il vero un topo magro e grigio faceva capolino a guardare l'uomo magro e grigio domandandosi che cavolo accadesse in quella vecchia casa fino allora così tranquilla e talvolta Peter condivideva il dolore di una topolina che aveva messo al mondo cinque o sei piccoli delicati morbidi e graziosi giusti in tempo per vederli schiacciare sotto quella rovina ma del tesoro finora neppure l'ombra deciso come il destino e diligente come il tempo Peter aveva ormai liquidato le parti più alte ed era giunto al secondo piano dove aveva attaccato una delle stanze verso la facciata era stata un tempo la camera da letto delle grandi occasioni e si onorava della tradizione che vi avessero dormito il governatore Dudley e molti altri ospiti illustri i mobili se ne erano andati rimanevano i resti di una tapezzeria tutta sbiadita e lacera ma gli spazi più vasti di nuda parete erano ornati di schizzi a carbonella quasi tutti teste umane di profilo erano esemplari del genio giovanile di Peter e degli soffrì di doverli distruggere più che se fossero a freschi di Michelangelo ma uno di quegli schizzi il migliore lo colpì in maniera diversa rappresentava uno straccione appoggiato in parte a una vanga col corpo magro curvo su una buca del terreno e la mano protesa ad afferrare qualche cosa che aveva trovato ma proprio dietro a lui col viso atteggiato a una risata diabolica si vedeva una figura con le corna la coda a pennacchio ai piedi forcuti indietro satana esclamò Peter quel buomo avrà il suo oro e sollevando l'ascia assestò al personaggio cornuto un tal colpo sulla testa che demolì non solo lui ma anche il cercatore del tesoro facendo svanire tutta la scena come per incanto oltre a ciò l'ascia attraversò d'impeto l'intonaco e le assicelle di legno rivelando una cavità misericordia signor Peter besticciate col diavolo chiese Tabitha che era venuta a prendere un po' di combustibile da mettere sotto la pentola senza rispondere alla vecchia Peter buttò giù un altro pezzo di muro e scoprì una nicchia o armadietto praticato da un lato del caminetto all'altezza del petto non conteneva che una lampada di ottone ricoperta di verde rame e un pezzo di pergamena polverosa mentre Peter esaminava la pergamena Tabitha si impossessò della lampada e cominciò a stropicciarla col grembiale è inutile è inutile pulirla Tabitha osservò Peter non è la lampada di Aladino sebbene io la consideri come il simbolo di una non minor fortuna guarda qua Tabitha Tabitha prese la pergamena e se l'avvicinò al naso su cui poggiava un paio di occhiali coi cerchietti di ferro ma aveva appena cominciato ad esaminarla che ruppe in una risata chioccia tenendosi i fianchi con le mani a me ben vecchia non me la fate esclamò questa è la vostra scrittura signor Peter è la stessa della lettera che mi mandaste dal Messico e ha certamente una notevole somiglianza ammise Peter riprendendo ad esaminare la pergamena ma sai benissimo anche tu Tabitha che questa nicchia deve essere stata murata prima che tu entrassi in questa casa o che io venissi al mondo no questa è la scrittura del vecchio Peter Goldwhite queste colonne di sterline scellini pens sono cifre sue e indicano l'ammontare del tesoro e questa qui in fondo alla pagina è di certo un'indicazione del luogo dove è nascosto ma l'inchiostro è sbiadito o si è staccato ed è assolutamente illegibile che peccato beh questa lampada però è come nuova è un certo compenso disse Tabitha una lampada pensò Peter può illuminare le mie ricerche per il momento Peter si sentiva più disposto a riflettere sulla scoperta che a riprendere la sua fatica dopo che Tabitha fu tornata in cucina continuò a scrutare la pergamena vicino a una delle finestre di facciata così opaca per la polvere che il sole riusciva appena a proiettare sul pavimento l'ombra incerta dell'intelaiatura Peter Peter l'apri con uno sforzo e guardò la grande strada della città mentre il sole entrava a guardare nella vecchia casa l'aria che pura era dolce e quasi calda fecerà rividire Peter come uno spruzzo d'acqua era il primo giorno del disgelo di gennaio la neve si ammucchiava ancora alta sui tetti delle case ma si scioglieva rapidamente in milioni di gocciole ma nel cadere brillavano al sole e facevano il rumore di un rovescio di pioggia estiva sotto le grondaie nella strada la neve pestata era dura e solida come un pavimento di marmo bianco e ancora non aveva cominciato a fondersi alla temperatura primaverile ma quando Peter sporse il capo vide che in quella tiepida giornata il disgelo era cominciato se non per la città almeno per i suoi abitanti dopo due o tre settimane di tempo invernale lo rallegrò di una letizia in cui alitavo a un sospiro la vista della fiumana di donne che andavano lungo i marciapiedi sdrucciolevoli con le guance rose messe in risalto da cappucci imbottiti pellicce e mantelle di zipellino come rose in mezzo a un fogliame di nuovo genere le campanelle delle slitte tintinnavano continuamente annunciando ora l'arrivo di una slitta da Vermont carica di maiali congelati o di montoni o forse anche di qualche daino ora l'arrivo di un mercante con galline occhi e tacchini tutti gli abitanti di una aia ed ecco il sopraggiungere di un agricoltore e della sua sposa venuti in città per una passeggiata e insieme per fare spese e vendere uova e burro questa coppia girava in una slitta quadrata all'antica di cui si servivano da venti inverni e che aveva passato venti estate al sole accanto alla porta di quando in quando un signore con la sua dama passava sfiorando la neve in una slitta elegante dalla forma simile a una barca a fondo piatto ora una slitta di posta con le tendine di stoffa aperte per lasciare entrare il sole scendeva rapidamente in strada volteggiando qua e là fra i veicoli che le ostruivano il passaggio dall'angolo di una strada sbucò una specie d'arca di noè sui pattini un'immensa slitta aperta composti per cinquanta persone tirata da una dozzina di cavalli questo ampio veicolo era a carico di ragazze e giovanotti allegri di allegri vecchi tutti animati e divertiti e che ridevano a piena bocca dalla slitta partiva un brusio di voci e di risa sommesse che scoppiavano ogni tanto in un acuto grido di gioia cui i passanti rispondevano con tre e viva mentre un gruppo di monelli lanciava palle di neve proprio in mezzo a egitanti la slitta passò e quando fu scomparsa nascosta dalla curva della strada se ne udì ancora in lontananza l'allegro vocio peter non aveva mai assistito a nulla di più vivace della scena formata da tutti quei particolari il sole sfolgorante le gocce d'acqua luminose la neve che scintillava da folla gaia la varietà di rapidi veicoli e il lieto tintinnio delle campanelle che facevano danzare il cuore al suono della loro musica non si vedeva niente di triste se non quella guzza anticalia della casa di peter goldwhite che poteva ben apparire lugubre al di fuori da che una così terribile corrosione la divorava all'interno e la magra figura di peter che si intravedeva al secondo piano era degna della casa peter come va amico peter gridò una voce dall'altro lato della strada proprio mentre peter ritraeva il capo dalla finestra guardate da questa parte peter peter guardò e vide sul marciapiede opposto il suo antico socio john brown grasso e ben pasciuto col cappotto di pelliccia aperto su un bell'abito la sua voce aveva attratto l'attenzione di tutta la città sulla finestra di peter goldwhite e sul polveroso spauracchio che vi si affacciava dite un po peter riprese a gridare il signor brown che diavolo state facendo ogni volta che passo qui sento un fracasso terribile riparate la vostra casa immagino la rimettete a nuovo eh temo che sia troppo tardi per questo signor brown rispose peter se la rimetterò a nuovo sarà nuova del tutto di denaro di dentro e di fuori dalla cantina alla soffitta non fareste meglio ad affidare l'incarico a me disse signor brown in tono significativo non ancora rispose peter chiudendo precipitosamente la finestra poiché da quando si era messo alla ricerca del tesoro detestava di essere osservato da altri mentre rientrava nella stanza vergognoso della sua esteriole miseria ma fiero della segreta ricchezza che già stringeva in pugno un sorriso altero gli illuminò il volto proprio con lo stesso effetto del pallido raggio di sole nella squallida stanza cercò di prendere la stessa espressione che probabilmente aveva in volto il suo antenato quando si gloriava di costruire una solida casa destinata a ospitare numerose generazioni della sua posterità ma la stanza appariva molto buia i suoi occhi abbagliati dalla neve e anche molto triste per contrasto con la scena vivace che aveva veduto quella breve occhiata sulla strada gli aveva dato una intensa impressione del modo con cui il mondo si mantiene prospero e allegro coi divertimenti in comune i rapporti d'affari mentre lui nell'isolamento perseguiva una meta che forse era un fantasma con un metodo che la maggior parte degli uomini avrebbe chiamato pazia uno dei grandi vantaggi della vita sociale è che ognuno corregge la propria opinione sull'opinione degli altri ed è uguala propria alla condotta dei vicini così da cadere di rado nella stravaganza solo per aver dato un'occhiata fuori dalla finestra Peter Godwhite aveva subito questo influsso per un momento dubitò se davvero esistesse un forziere nascosto pieno d'oro e in tal caso se fosse proprio così savio demolire la casa unicamente per convincersi che esso non esisteva ma tutto questo durò un momento Peter il distruttore si rimise all'opera segnatagli dal destino e non ebbe più esitazioni finché non fu compiuta nel corso delle sue ricerche gli capitarono tra le mani molte cose che si trovano comunemente fra le rovine di una vecchia casa ed altre invece insolite quel che più sembrava fare al caso fu una vecchia chiave arruginita che era stata cacciata in una fessura del muro e aveva legata una targhetta di legno con le iniziali PG altra strana scoperta fu una bottiglia di vino murata in un vecchio forno secondo una tradizione di famiglia il nonno di Peter ufficiale bontempone nell'antica guerra di Francia aveva messo da parte parecchie dozzine di bottiglie di quel liquido prezioso a beneficio dei beoni ancora da nascere Peter non aveva bisogno di nessun cordiale per rianimare le sue speranze servò dunque il vino per festeggiare il successo raccolse anche molti soldini perduti nelle fessure del pavimento e qualche moneta spagnola e la metà di una moneta da sei pence spezzata che era stata di certo un pegno d'amore trova anche una medaglia d'argento dell'incoronazione di Giorgio III ma il forziere del vecchio Peter Goldwhite giocava a nascondersi d'uno in altro cantuccio oscuro o eludeva in qualche altro modo le grinfie del secondo Peter al punto che se le sue ricerche si fossero prolungate molto avrebbe dovuto scavare la terra non lo seguiremo a passo a passo nel suo trionfale cammino basti dire che Peter lavorò come una macchina a vapore e in quell'unico inverno portò a termine l'opera che i precedenti abitatori della casa pur con l'aiuto del tempo e degli elementi erano riusciti a compiere solo per metà in un secolo tutte le stanze all'infuori della cucina erano ormai sventrate la casa si riduceva unicamente a un guscio della parvenza di una casa altrettanto irreale quanto gli edifici di uno scenario di teatro era come la crosta intatta di un gran formaggio che un topo aveva abitato e rosicchiato finché non fosse più un formaggio e Peter era il topo quel che Peter aveva demolito Tabitha aveva bruciato saggiamente ella considerava che rimasti senza casa non avrebbero avuto nemmeno bisogno di legna per riscaldarla e l'economia sarebbe stata dunque una sciocchezza e così si poteva dire che la casa tutta intera se n'era andata in fumo ed era avvolata fra le nuvole della gola nera del caminetto di cucina era la perfetta contropartita delle gesta di quell'uomo che aveva ingoiato se stesso nella notte che seguì la fine dell'inverno e all'inizio della primavera ogni fessura ogni crepaccio della casa ad eccezione della cucina era stato rovistato in quella sera fatale il tempo era cattivo una tempesta di neve scatenatasi alcune ore prima era ancora trascinata e sballottata nell'atmosfera di un vero uragano che lottava con la casa come il principe dell'aria in persona volesse dare il colpo di grazia alle fatiche di peter con la carcassa così indebolita e sostegni interni abbattuti non vi sarebbe stato da meravigliarsi se a uno sforzo più violento della raffica le mura imputridite dell'edificio e pinnacoli del tetto fossero crollati sulla testa del proprietario ma costui non si curava del pericolo eppure era agitato irrequieto come la notte stessa o come la fiamma che vacillava su per il caminetto ad ogni ruggito del vento tempestoso il vino tabita gridò ad un tratto peter il vecchio vino generoso di mio nonno ce lo berremo adesso tabita lasciò il suo sedile annerito dal fumo all'angolo del camino e posò la bottiglia davanti a peter accanto all'antica lampada di ottone anch'essa frutto delle sue ricerche peter la sollevò all'altezza degli occhi e guardando attraverso il liquido vide la cucina illuminata da un alone d'oro che avvolgeva anche tabita le dorava i capelli d'argento e trasformava i suoi miseri strazzi in abiti di splendore regale tutto questo rammentava a peter i suoi sogni dorati signor peter osservò tabita dobbiamo bere il vino prima di aver trovato il denaro il denaro è trovato esclamò peter con rabbia il forziere è a portata della mia mano non andrò a dormire finché non avrò girato questa chiave nella serratura arrugginita ma prima di tutto beviamo poiché nella casa non vi erano cavatappi batté sul collo della bottiglia con la chiave arrugginita del vecchio peter goldwhite e fece saltar via con un sol colpo il tappo sicillato riempì poi due piccole tazze di porcellana che tabita aveva preso dall'armadio quel vecchio vino era così chiaro e luminoso che brillava nelle tazze e metteva in risalto più di quando erano vuote il rametto di fiori vermigli di cui era ornato il fondo il suo profumo intenso e delicato si diffuse per la cucina bevi tabita esclamò peter e benedetto sia quel brav'uomo del tempo antico che mise da parte questo buon liquido per te e per me e beviamo anche alla memoria di peter goldwhite e abbiamo buone ragioni per ricordarci di lui osservò tabita bevendo per quanti anni attraverso quali mutamenti di fortuna e quante calamità quella bottiglia aveva asserbato la sua gioia effervescente per essere infine trangugiata da due così allegri compagni un po' della felicità di un'epoca passata era stata tenuta in serbo per loro ed ora si sprigionava in una quantità di visioni rallegranti per sbitarrirsi fra le tempeste e le desolazioni del tempo presente ma intanto che i due finiscono la bottiglia noi dobbiamo volgere i nostri sguardi altrove accade che in quella notte burrascosa il signor john brown si sentisse a disagio nella sua poltrona imbottita vicino alla griglia incandescente di antrecite che riscaldava il suo bel salotto di natura il signor brown era un buon diavolo affabile e compassionevole ogni volta che le disgrazie altrui arrivavano fino al suo cuore attraverso il corpetto vattato della sua prosperità quella sera egli aveva pensato molto al suo antico socio peter goldwhite alle sue strane fantasie e alla sua continua sfortuna alla miseria della sua casa vista nell'ultima visita che gli aveva fatto e all'aspetto sconvolto e spaurito di peter quando gli aveva parlato dalla finestra poveretto pensava il signor john brown povera testa matta di un goldwhite per la nostra vecchia amicizia avrei dovuto curarmi del suo benessere durante un così rigido inverno questi sentimenti divennero poco a poco così forti che nonostante il tempo inclemente egli decise di andare immediatamente a trovare peter goldwhite l'intensità dell'impulso era davvero strana ogni urlo del vento gli sembrava un appello o almeno gli sarebbe apparso tale se egli fosse stato abituato a udire nel vento l'eco della parola immaginazione molto stupito di tale generosa benevolenza si avvolse nel suo mantello si coprì il collo e le orecchie con sciarpe e fazzoletti e così corazzato lanciò la sfida alla tempesta ma le forze dell'aria furono sul punto di vincere la battaglia proprio quando il signor brown stava per voltare l'angolo presso la casa di peter goldwhite l'uragano lo sollevò da terra lo scaraventò col viso in avanti in un banco di neve e si accinse a seppellire le sue parti protuberanti sotto nuove raffiche sembrava che al signor brown rimanessero ormai ben poche speranze di ricomparire prima del prossimo diszelo nello stesso momento il suo cappello volò via e mulinò nell'aria verso regioni lontane d'onde non sono ancora giunte notizie pure egli riuscì ad aprirsi un barco nella neve e curvo il capo scoperto contro la tempesta si diresse faticosamente alla porta di peter risuonavano tali scricchioli gemiti e fragori e un così minaccioso scuotimento in tutto il cadente edificio che anche il colpo più forte non sarebbe stato udito dai suoi abitanti egli entrò dunque senza cerimonie e si avviò a tentoni verso la cucina ma anche lì la sua intrusione passò inosservata peter e tabita volgevano le spalle alla porta e stavano chini su un gran forziere che evidentemente avevano tratto fuori allora allora da una cavità o da un ripostiglio nascosto a sinistra del camino alla luce della lampada che la vecchia teneva in mano il signor brown vide che il forziere aveva sbarro e cerchiature di ferro era rinforzato con piastre e ornato con chiodi ugualmente di ferro in modo da poter serbare la ricchezza di un secolo per i bisogni di un altro peter goldwhite stava infilando una chiave nella serratura oh tabita esclamò con tiepido rapimento come potrò resistere allo splendore l'oro l'oro lucente lucente mi sembra di ricordare l'ultimo sguardo che gli diedi nel momento in cui il coperchio ferrato si abbassava e da allora sono ormai settant'anni ha continuato a splendere in segreto serbando il suo fulgore per questo trionfale momento si riverserà su di noi come il sole di mezzogiorno e allora proteggetevi gli occhi il signor peter disse tabita un po' meno paziente del solito ma per amor di dio girate quella chiave con uno sforzo violento delle due mani peter girò la chiave arrugginita nel complicato congegno dell'arrugginita serratura nel frattempo il signor brown si era avvicinato e nell'istante in cui peter sollevava il coperchio il suo volto sporgeva ansioso tra i visi degli altri due ma nessuno splendore improvviso illuminò la cucina che cos'è esclamò tabita aggiustandosi gli occhiali sul naso e tenendo la lampada al di sopra del forziere aperto è il mucchio di stracci del vecchio peter goldwhite pressa poco tabby disse il signor brown sollevando una manciata del tesoro oh quale fantasma di ricchezza morta e sepolta era mai andato ad evocare peter goldwhite perché gli desse di volta quel poco di cervello che ancora gli restava in apparenza vi era lì una somma incalcolabile sufficiente per comprare l'intera città e ricostruire tutte le strade ma per grande che fosse nessun uomo sano di mente avrebbe dato per essa sei pence di buona moneta che cosa erano dunque in poche parole delle illusorie ricchezze del forziere erano antichi titoli di credito della provincia buoni del tesoro cartelle fondiarie ed altra cartaccia dello stesso genere dalle prime emissioni più di un secolo e mezzo addietro fin quasi alla rivoluzione biglietti da mille sterline stavano frammisti a penni di pergamena e non valevano più di essi questo è dunque il tesoro di peter goldwhite disse il signor brown il vostro omonimo peter vi assomigliava un po' e quando la valuta provinciale fu disprezzata del 50 o del 75 per cento la ricomprò in previsione di un rialzo ho inteso raccontare da mio nonno che il vecchio peter diede al suo padre un'ipoteca su questa casa e sul terreno per procurarsi il denaro con cui attuare il suo sciocco progetto ma la valuta continuò a deprezzarsi finché nessuno l'avrebbe voluta più neanche in dono e così il vecchio peter goldwhite si trovò come peter secondo con i milioni nel forziere e quasi senza panna indosso ne divenne pazzo ma non importa peter è proprio il genere di capitale che ci vuole per costruire castelli in aria la casa sta per cascarci in testa gridò tabita poiché il vento scuoteva i vecchi muri con violenza sempre crescente lascia la cascare rispose peter incrociando le brazza e sedendosi sul forziere no no amico mio intervenne john brown a casa mia ho posto per voi e per tabby e ho anche una cantina sicura per la cassa del tesoro domani cercheremo di metterci d'accordo sulla vendita di questa vecchia casa il valore della proprietà immobiliare è alto e posso offrirvi un buon prezzo e io aggiunse peter goldwhite riprendendo coraggio ho un progetto per investire il denaro con forte guadagno beh e quanto a questo borbottò fra sé john brown bisogna chiedere al tribunale di nominare un tutore che vigili sul suo denaro e se peter insiste per speculare potrà farlo finché vorrà col tesoro del vecchio peter goldwhite grazie a tutti Grazie a tutti